E' un momento cruciale per l'Europa, ma oggi abbiamo una consapevolezza molto amara. La discussione che farete in Consiglio europeo non cambierà marcia, non cambierà visione all'Europa. Presidente Meloni, noi non la invidiamo perché da una parte è tentata di offrire i suoi voti per appoggiare la nuova Commissione, per negoziare in cambio un importante incarico per l'Italia, venendo proprio a patti con quel centro-sinistra che voi dite di voler contrastare in tutti i modi. In alternativa, proverete per una volta forse a rimanere coerenti davanti ai vostri elettori, ma ininfluenti nel nuovo governo europeo con grave danno per l'Italia. Insomma, questo è un bel dilemma per una sedicente patriota. Meloni incoerente o Meloni ininfluente? Meloni, peraltro, è un Presidente Meloni che si ritrova seduta in mezzo a due Vicepresidenti del Consiglio, Tajani che i caminetti li ha fatti e Salvini che li contrasta in tutti i modi. Non so con quale capacità di dialogo riuscite a parlarvi. Allora mi permetto un consiglio, Presidente Meloni. Noi ormai l'abbiamo vista, insieme a tutti gli italiani, cambiare idea un po' su tutto, dalle misure sulla benzina, ai blocchi navali, nuove tasse su casa, famiglie. Quindi direi che ormai nessuno si stupirebbe di una nuova clamorosa incoerenza. E allora conviene sacrificare ancora una volta la coerenza e andare in Europa. Presidente Meloni, vada in un'Europa con forza e determinazione, vada a prendersi un posto di prestigio in Commissione Europea, perché questo spetta di diritto all'Italia, che è un Paese fondatore, la terza economia europea. Magari questa volta, visto che si tratta di un incarico di prestigio, non affidiamolo a un parente, non affidiamolo a un sodale di partito solo perché è fedele, affidiamolo a una persona competente. Per una volta applichiamo quel principio di meritocrazia che l'abbiamo sentita declamare a parole così tante volte. Noi cinque anni fa in Europa siamo andati col voto decisivo del Movimento 5 Stelle e abbiamo ottenuto ruoli di peso per l'Italia. Abbiamo portato 209 miliardi, che è l'unica risorsa oggi sul tavolo del vostro governo. Ma poi dico, Presidente Meloni, mi interrogo, perché tutto questo timore di fare accordi col centro sinistro europeo? Negli ultimi due anni questi accordi li avete già fatti. Scusi, Presidente Meloni, non è lei che ha sottoscritto il patto di stabilità frutto dell'accordo tra Macron e Scholz? A causa di questa sua firma rischiamo di non poter diminuire le tasse in busta paga per aumentare lo stipendio netto dei lavoratori. Probabilmente arriveranno nuove tasse. A causa di questa firma non potremo investire in sanità, non potremo aiutare le famiglie italiane di fronte agli aumenti di mutui e di bollette. Vede, Presidente Meloni, noi siamo una forza progressista, ma rispetto alle forze del centro sinistro europeo manteniamo autonomia di pensiero e ci esprimiamo di volta in volta sulle cose che riteniamo giuste e sulle cose che riteniamo ingiuste. E anche per queste ragioni che mi sono dichiarato già, e lo dico anche oggi, deluso dagli ultimi due anni dell'azione politica della Commissione von der Leyen. Noi a quel patto di stabilità abbiamo detto no, anche a costo di essere gli unici tra le principali delegazioni italiane. Come abbiamo detto no al contrario del vostro governo, al piano europeo su immigrazione e asilo, che danneggia i paesi come l'Italia di prima proto perché rende le procedure di registrazione dei migranti più farraginose e certo non offre un reale ed efficiente meccanismo di ricollocazione dei migranti tra i vari paesi europei. Sono due anni, Presidente Meloni, che leva in giro a vantare un fantomatico piano Mattei, vuoto di contenuti e privo di risorse. Di certo qui abbiamo registrato il flop dell'accordo tunisino e registriamo quasi un miliardo di investimenti che volete destinare a due centri in Albania in cui ospiteremo qualche centinaio di migranti che poi dovremo portare in Italia. Presidente Meloni, lei ha contestato ieri, abbiamo visto tutti, alle opposizioni di usare toni da guerra civile. E' il caso di smetterla con questo finto vittimismo. La guerra civile l'avete scatenata voi, parlamentari di maggioranza, in quest'Aula aggredendo il nostro Leonardo Donno con un pestaggio in piena regola. E la cosa più grave è che abbiamo un Presidente del Consiglio che non ha avvertito la responsabilità, la dignità politica di condannare questa vile aggressione. Anche oggi ha perso quest'occasione. Quel che a noi del Movimento 5 Stelle preoccupa è piuttosto, Presidente Meloni, la sua mancanza di visione e di responsabilità politica rispetto alle vere sfide che attendono all'Europa. Noi abbiamo un'idea di Europa completamente diversa da quella a cui voi vi siete accodati negli ultimi due anni. Presidente Meloni, a noi serve un'Europa che prenda di petto il tema delle enormi diseguaglianze. In Italia e in Europa si sono acuite, frutto di tre pandemie, tre emergenze, quella sanitaria, energetica, la guerra attuale. E il frutto di queste tre pandemie è che si sono aggravate enormemente le diseguaglianze territoriali, di genere, intergenerazionali. Chi era in difficoltà ora è povero. In Italia addirittura abbiamo il regolo storico dei poveri, di poveri assoluti. Chi apparteneva al ceto medio oggi ha difficoltà a arrivare a fine mese. Persino il nostro sistema produttivo arranca. le imprese è da 14 mesi che vedono calare la produzione industriale su base annua. E allora piuttosto di un governo che alzi la voce contro i caminetti, come lei sta facendo, noi abbiamo bisogno di un governo che scuota l'Europa, che vada lì a proporre un piano straordinario di investimenti per contrastare le diseguaglianze. Noi vogliamo un'Italia che dica a gran voce che chi ha guadagnato, parliamo di extra profitti, ingiusti profitti, sul coronavirus, sulla guerra, sulla crisi energetica, ora deve restituire alle famiglie, ai nostri giovani e questa nostra battaglia per un'Italia, per un'Europa più equa, più sociale, che aiuti ad esempio le giovani coppie che vogliono casa, che si faccia sentire per cambiare un sistema in cui troppi lavoratori sono ancora sottopagati, sfruttati, addirittura scaricati davanti casa con un braccio mozzato come fossero un sacco di immondizia. Invece di pensare, di portare anche in Europa queste proposte, Presidente Meloni, lei ci propone riforme che quelle diseguaglianze le renderanno ancora più acute, le renderanno eterne. L'autonomia differenziata sarà una condanna a morte per la sanità, i trasporti e l'istruzione di tante regioni italiane che già oggi arrancano. Con l'autonomia spacca Italia, lei sta firmando la secessione, realizza i sogni di Bossi e calpesta il tricolore. La nostra visione dell'Europa ci impone di dire basta rispetto a un'altra sfida, la corsa a riarmo, basta l'escalation delle guerre. Torniamo padroni del nostro destino, Presidente Meloni. Anche sulla guerra in Ucraina, lei si è unita al centro-sinistra europeo, Partito Socialista, Verdi Europei, senza portare nessuna proposta dell'Italia, cancellando in questi due anni quella che è l'enorme bagaglio, l'enorme ricchezza dell'Italia, tradizione di dialogo, capacità diplomatica che ha sempre espresso. L'unica proposta partorita dal suo governo è quella del suo cognato Lollo Brigida, una bella cena e buon vino per porre fine alle guerre. E allora noi diciamo, un commissario per la pace, diciamo non lasciamo che siano americani, cinesi a decidere del futuro assetto di sicurezza del continente europeo, abbandoniamo l'economia di guerra, investiamo su sanità, su un'Europa sociale, su infrastrutture e istruzioni, anziché sulle armi. Al G7 avevamo un'occasione storica, nessuna svolta sulla strategia di guerra. Di storico rimarrà il suo meme mentre ride con Sunac la sua abilità nel ballare la pizzica con l'aggiunta di un goffo tentativo, poi rientrato scurantista, di frenare sulla garanzia del diritto all'aborto e non venga qui in quest'Aula con ipocrisia a negare la vostra proposta di modifica che tenta di ostacolare la libertà delle donne. Non abbiamo nessuna iniziativa risoluta per Gaza dopo nove mesi, dobbiamo guardare in faccia, la scioccante realtà è quell'orrore, 40.000 morti ormai, occorrono le più forti pressioni sul governo di Israele per il cessato di fuoco. Dobbiamo, concludo, riconoscere la Palestina, pretende l'apertura immediata di corridoi umanitari. Allora nell'annunciare il voto contrario faccio un ultimo appello a recuperare, Presidente Meloni, la credibilità, l'immagine dell'Italia. Il tricolore imparate ad amarlo davvero, non a sventolarlo nelle dirette social. Prima con il suo linguaggio la Presidente Meloni si è rivolta ai ministri e ha detto con il suo linguaggio romanesco regà, arzatevi, muto il suo linguaggio, ragazzi, svegliatevi. Grazie, onorevole.